Se vi trovavate un hard disk interno inutilizzato e allora avete avuto la brillante idea come l'abbiamo avuta noi di riutilizzarlo tramite un case dedicato per trasformarlo in hard disk esterno ed archiviare tutti i vostri dati ma nel momento in cui andate a collegare il dispositivo al computer e lui non lo riconosce, beh non vi preoccupate perché in questo video di oggi vi andrò a spiegare come fare la ripartizione del disco sul computer per far sì che lo legga però ovviamente tutto questo subito dopo la sigla Ciao amici di Tech con Android, io sono Stefano e come detto poco fa vi spiego la stessa situazione in cui ci siamo trovati con il mio collega qualche mese fa avevamo acquistato questi hard disk interni, nello specifico stiamo parlando di 6Git Barracuda da 4TB ne avevamo un paio, siccome l'avamo acquistato per un sistema di NAS che poi non abbiamo più utilizzato perché abbiamo trovato un'altra soluzione ci siamo detti beh trasformiamoli in hard disk esterni e utilizziamoli così senza dover acquistare appunto altri dispositivi del genere per fare questo abbiamo acquistato il case esterno della Orico, a proposito vi lascio il link in descrizione di tutti questi prodotti e mi sento di dare veramente una nota positiva a questa azienda perché non è il primo case che compriamo da loro, è il secondo ma col secondo abbiamo avuto un problema, però l'assistenza clienti della Orico sono stati gentilissimi tramite Amazon e ce ne hanno mandato subito uno nuovo ma quindi tornando a noi, che succede? Una volta che voi installate l'hard disk all'interno del case e poi collegate il case al computer qua esce il problema, ovvero il computer non vi legge il dispositivo non è che vi esce sulle risorse del computer, voi l'aprite ma non ve lo fa aprire proprio non lo legge, è come se fosse un fantasma, non esiste beh tranquilli, vediamo veramente fra poco come poter risolvere questo problema prima se siete interessati vi faccio vedere anche come si installa il hard disk interno su uno di questi case ripeto, nello specifico stiamo utilizzando questo case della Orico all'interno della confezione trovate già tutto il necessario per poter fare questa operazione quindi abbiamo la base per il case, il case stesso e all'interno della confezione c'era anche questo cacciavite dietro al case troviamo due viti, uno in alto e uno in basso adesso vado a rimuovere queste viti col cacciavite levate le due viti, si apre tranquillissimamente ed ecco qua dove andare ad installare l'hard disk interno questo è il pezzo che è uscito dal case se vedete questi due connettori ce n'è uno più corto e uno più lungo quindi diciamo non ci si può sbagliare perché anche sul hard disk troverete appunto un connettore più corto e uno più lungo corto con corto e lungo con lungo assicuratevi appunto che sia entrato fino alla fine a questo punto non vi resta che andare ad infilare l'hard disk all'interno del case non vi preoccupate se non arriva subito fino in fondo perché qui sulla parte bassa interna c'è un cuscinetto di gomma che serve appunto per tutelare l'hard disk rimettiamo le viti e chiudiamo tutto ecco fatto, semplicissimo quindi si può mettere sulla base che troviamo all'interno della confezione e sempre all'interno della confezione troviamo due cavi uno è l'alimentatore da andare ad inserire direttamente alla presa di corrente alimentatore che si collega qua mentre il secondo cavo è quello che va al computer tramite presa USB A ma adesso ci trasferiamo al computer e vi faccio vedere come si fa la ripartizione eccoci qua che ci siamo spostati sul computer ho appena acceso l'hard disk ma nonostante questo il computer non lo rileva infatti come potete vedere dalla registrazione dello schermo l'unica unità che il computer mi legge è quella interna ovvero il Windows C che è proprio la memoria interna del computer ma l'hard disk nessuna traccia, non lo rileva perché? perché essendo un hard disk nuovo deve essere prima di tutto inizializzato per inizializzare il disco la prima cosa che dobbiamo fare è premete il tasto Windows più X per accedere a questo menu e andiamo su gestione disco premiamo si apre questa finestra qua dove possiamo vedere il disco C che appunto questo è quello della memoria interna al mio computer e qua c'è disco 1 sconosciuto ovvero non inizializzato quello che vi dicevo motivo per la quale il computer non rileva il nostro hard disk esterno quindi bisogna andare su disco 1 tasto destro inizializza disco una volta che si apre quest'altra finestra dobbiamo scegliere se utilizzare la partizione MBR o GPT io vi consiglio la GPT la maggior parte dei PC oggigiorno usa il tipo di disco GPT sia per hard disk che per SSD quindi è anche più affittabile e soprattutto permette la partizione su hard disk con volumi maggiori ai 2 TB quindi fa perfettamente a caso nostro ed eccoci qui adesso bisogna andare sullo spazio che ancora non è stato allocato e con il tasto destro premere nuovo volume semplice si aprirà questa nuova finestra facciamo avanti in questo caso possiamo anche andare a selezionare tutto lo spazio massimo disponibile sull'hard disk quindi premiamo avanti adesso dobbiamo scegliere qual è la lettera che vogliamo andare ad assegnare alla unità in questione siccome sull'altro hard disk su uno tengo la lettera D sull'altro L magari su questo mettiamo la lettera F clicchiamo avanti allora in questa nuova finestra che si è aperta dobbiamo andare a scegliere quale tipo di file system andrà ad usare questo nuovo spazio che stiamo andando ad allocare noi vi consigliamo NTFS che è quello più moderno ed è più compatibile con più dispositivi una volta scelto questo si fa avanti fine adesso sta processando ed ecco qua come vedete si è colorato di blu è stato formattato adesso questo spazio all'interno dell'hard disk è disponibile è stato allocato adesso come vedete lo spazio F è disponibile sul nostro computer prima il computer non riusciva a rilevare l'hard disk mentre adesso si quindi chiudiamo un attimo qua andiamo su disco locale F prima di aprirlo andiamo su proprietà andiamo sul disco locale F prima di aprirlo tasto destro facciamo formatta leviamo la spunta formattazione veloce avvia vabbè ovviamente ci avvisa che formattando il disco tutti i dati all'interno contenuti andranno persi ma non è il nostro caso visto che era un disco nuovo vergine ok una volta che l'operazione sarà finita potrete finalmente usare il vostro nuovo hard disk esterno ed eccoci qua alla fine del video come avete potuto vedere è un'operazione veramente molto semplice vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili a questi prodotti che abbiamo provato se avete dubbi curiosità o perplessità lasciateci qua sotto un commento e ci vediamo col prossimo video grazie a tutti